Buonasera ragazzi, sono qui per commentare con voi la partita del Milan dei sedicesimi di finale di Europa League. La partita si è appena conclusa, come potete ben vedere il risultato è di 2 a 2. Il Milan stava vincendo, però purtroppo il gol di Pavkov su calcio d'angolo ha segnato il pareggio di questa partita. La cosa che un po' mi fa ridere è che innanzitutto andando a vedere un po' i gol, i marcatori, possiamo vedere che il Milan, giusto per ricordare un po' le azioni salienti della partita, il Milan nel primo tempo aveva segnato ben due gol, il primo appunto il gol di Samu Castiglieco che purtroppo è stato annullato per fuorigioco e il secondo gol appunto di Teo Hernandez, questo appunto annullato per un tocco di mani proprio durante la manovra, durante l'impostazione dell'azione stessa. E niente, l'autogol, che alla fine è stato il gol che ha sbloccato la partita, è stato un autogol del difensore, di questo Pavkov, che ovviamente ha provato a deviare la traiettoria del pallone, però non ha fatto altro che mettere in difficoltà il suo portiere e purtroppo la palla è finita nella porta sbagliata. Poi la Stella Rossa nel secondo tempo ha subito pareggiato con Kanga, Hernandez ha siglato poi il gol del 2-1 sul rigore, c'è da segnalare anche l'infortunio di Benassert, speriamo insomma non sia nulla di grave, perché comunque nello scacchiere di Piole è un giocatore molto importante. E la partita sembrava quasi, cioè sembrava chiusa, perché comunque poi c'è stata anche l'espulsione di questo Rodic, che sinceramente mi ha fatto un po' girare i testicoli, per non dire altro, perché comunque ha veramente compiuto tutta una serie di falli, e uno dopo l'altro alla fine l'arbitro ha deciso saggiamente di mandarlo fuori, e la partita sembrava chiusa ormai, mancavano pochi minuti. Anche se c'è da dire che la Stella Rossa ha comunque continuato anche in inferiorità numerica a mettere in difficoltà la squadra rossoniera. C'è da dire che comunque la squadra di Pioli presentava comunque dei giocatori che non fanno parte della formazione titolare, diciamo così, e quindi ovviamente ne ha risentito tutta proprio la manovra, la manovra di gioco ne ha risentito fortemente, tipo se dovessi dare dei voti insomma ai giocatori di stasera, darei boccerei totalmente Mandzukic, veramente la sua è stata una prestazione opaca, cioè non classificata perché veramente non mi è piaciuto, strafalloso, mi sembrava, cioè lo vedevo parecchio ansante in campo, cioè per quasi tutta la partita, non mi è piaciuto per niente, e l'altro che un po' diciamo non mi ha fatto impazzire è stato anche Meite, molto falloso, cioè non mi sono piaciuti. Invece strapromosso Calulo, che si è riconfermato un'ottima alternativa appunto sia come terzino che come difensore centrale, stasera appunto ha giocato al posto di Calabria e mi è piaciuto parecchio, peraltro ha anche fornito l'assist per il primo gol di Castiglieco, che poi è stato annullato, oh aspetta non mi sto ricordando, sì, no no no, lui ha fornito l'assist per il gol di Hernández, che poi è stato annullato, ecco, mi stavo confondendo, e comunque poi andremo a vedere le formazioni molto velocemente, quindi stavo dicendo la partita sembrava mai chiusa perché poi il Milan era anche in superiorità numerica, però poi c'è stato il gol nei minuti di recupero, praticamente, cioè precisamente al terzo minuto di recupero, su calcio all'angolo c'è stato il gol di questo Pavkov, che è anche subentrato nel secondo tempo, e niente, mi fa ridere perché l'autogol è stato propiziato da Pankov, è stato propiziato da Pankov, mentre il gol del pareggio è stato siglato da Pavkov, molto simili, io infatti pensavo fosse lo stesso giocatore, invece no, nomi molto difficili da pronunciare, peraltro, e quindi niente, ovviamente è un risultato che sta stretto al Milan, ovviamente sarebbe stato meglio portarla a casa questa partita, però il 2-2 comunque non è un risultato proprio negativo, perché segnare due reti fuori casa è sempre ottimo, no, soprattutto per, diciamo, in, come, diciamo, è un'ottima prospettiva, insomma, no, per quella che sarà la partita di ritorno, e che comunque giocherà in casa in Iran e quindi se la potrà gestire meglio, no, è comunque un vantaggio perché, comunque, i gol fuori casa valgono doppio, quindi, quindi, quindi non sono proprio triste per questo risultato, perché comunque, anche andando a vedere le statistiche, la partita è stata piuttosto equilibrata, diciamo, cioè comunque se la sono giocate entrambe le squadre, è stata una partita molto equilibrata, tiri da tutte e due le parti, sinceramente della squadra di Stankovic mi sono, diciamo, date all'occhio soltanto due giocatori, innanzitutto questa, ne approfitto per farvi vedere le formazioni, questa è la formazione rossonera, alla fine non cambia, cambia soltanto, appunto, Pioli ha adottato, insomma, il 4-3-3, e Manzukic punta centrale, Ailati, Castilieco e Rebic, centrocampo, Meite Benasser e Krunic, in difesa, praticamente, possiamo vedere Kalulu e Tomori, Tomori che ormai sta diventando molto importante, anche perché bisogna vedere Simon Kier, le condizioni fisiche di Simon Kier, come sono, insomma, no? Però sono molto sorpreso da Kalulu, la sua prestazione è molto, ma molto, ma molto positiva, mentre andando a vedere la loro formazione, sono tutti nomi, sinceramente, che non conosco, giocatori che non conosco, soltanto questo Falcinelli, non mi era del tutto estraneo, infatti ha militato in varie squadre, sia della Serie B che della Serie A, tra cui mi viene in mente, appunto, il Sassuolo, e poi è subentrato anche Pippo Falco, Pippo Falco, che, appunto, fino all'anno scorso, giocava nel Lecce, questi gli unici due nomi che mi vengono in mente di questa squadra, che, sinceramente, mi è del tutto ignota. Queste sono state le formazioni, niente, facendovi vedere un po' le statistiche del primo e del secondo tempo, come potete ben vedere, alla fine, primo tempo, la Stella Rossa ha giocato meglio, in Milan un po' sotto tono, anche se, ricordiamo, appunto, che il primo tempo si è sbloccato con l'autogol di Pankov, è molto fortuito, ovviamente fortuito per noi, sfortunato per loro, e secondo tempo è stato più equilibrato, devo dire che in Milan, anche con qualche cambio, anche con l'entrata, l'entrata di Leao, il cambio forzato, appunto, di Tonali, no, per Ben Nasser, cioè, sì, di Tonali per Ben Nasser, che, peraltro, anche prestazione ottima, anche di Tonali, che, per di più, insomma, ha propiziato il rigore, che poi ha battuto Hernández, abbiamo trovato il sostituto di Chessy, preferirei farli battere a Hernández, piuttosto che a Ibrahimović, però purtroppo non sono più lì, quindi non posso decidere per lui, e niente, ragazzi, questo è un risultato, ripeto, che ci sta stretto, queste sono le statistiche, e niente, è stata una partita, è stata una partita, insomma, che non ha regalato, regalato grandi gioie, non ha regalato grande entusiasmo, è stata una partita alquanto noiosa, io mi stavo addormentando sullo schermo, e, ripeto, il pareggio, il pareggio è arrivato in un momento della partita, diciamo, inaspettatissimo, io non me l'aspettavo, no? Cioè, pensavo che il Milan ormai avesse la situazione in mano, in pugno, e invece no, sono riusciti a pareggiare, anche in inferiorità numerica, quindi, tanto di cappello, a questa squadra, che comunque, diciamo, ci ha messo in difficoltà, questo risultato serviva al Milan, anche dopo la brutta prestazione con lo Spezza, e soprattutto per avere, per risollevare l'umore, visto che domenica ci aspetta una partita delicatissima, il derby della Madonnina con l'Inter, e sono contento che Piole abbia fatto rifiatare, giocatori importanti come Ibrahimovic, come Cialanoglu, e che abbia fatto uscire anche Rebic, all'inizio del secondo tempo, perché secondo me sarà lui il titolare, visto che lui è in continuo balottaggio con Leao e Mandzukic, ripeto, Mandzukic lo boccio, lo boccio totalmente, non mi è piaciuto proprio, l'ho visto, non lo so, forse ancora si deve riprendere, riprendere, la sua condizione fisica non è al top, però l'ho visto veramente, oggi era assente in campo, cioè quelle poche volte che ha toccato palla, o dopo sbagliava passaggio, oppure faceva fallo, quindi sinceramente non ha per niente aiutato lì davanti, invece, ripeto, molto positiva anche la prestazione di Castiglieco, di Rebic, non mi è piaciuto per niente Meite, tonali molto positivo, la difesa, a parte Romagnoli, che appunto per il rigore, per il rigore, insomma, mi ha fatto bestegnare, in tutte le lingue del mondo, la difesa promossa, e il portiere pure, Donnarumma, come al solito, come al solito, è stato davvero, diciamo, impeccabile, ha veramente, fatto numerevoli parate, quindi non gli si può, non gli si può, non gli si può attribuire, alcun tipo di colpe, di colpa, visto che, comunque, il rigore, purtroppo, il rigore è stata colpa di Romagnoli, e il 2-2, il gol del pareggio, è stato anche un capolavoro, cioè, il, su calcio d'angolo, alla fine, su palla, sulle palle inattive, insomma, il Milan deve un po' migliorare, però, non poteva fare niente, Donnarumma, è, praticamente, non ha colpe, ecco, sono un po' scioccato, un po' deluso, però, vabbè, ci teniamo stretto questo pareggio, ora pensiamo già alla prossima partita, anche perché avremo anche, poco tempo per, recuperare tutte le energie, per prepararla, questa partita, infatti, io cercherò, cioè, voglio essere positivo, però, l'Inter, comunque, sta bene, sta in forma, e penso che domenica, sarà una partita, veramente, veramente, veramente tosta, però, da milanista, spero e prego, perché, insomma, per come stanno nel campionato, per quelle che sono le prestazioni, di questa squadra, non possiamo, non possiamo pretendere, più di questo dal milan, quindi, dovesse arrivare una sconfitta, ok, la prenderemo, la prenderemo, l'accetteremo, e, diciamo, ci concentreremo, sulle prossime partite, perché, ripeto, l'obiettivo del milan, quest'anno, è arrivare tra le prime quattro, qualificarsi per la champions, per lo squelto, ci sono squadre, molto più attrezzate di noi, del milan, e quindi, e per di più, stanno tutte lì, comunque, ci sono pochi punti, che, distaccano le varie squadre, no, quindi, secondo me, sarà molto accesa, questa lotta, per lo scudetto, e niente, ragazzi, ci vediamo domenica, per il post partita, di milan inter, e, e niente, speriamo bene, speriamo bene, preghiamo, insomma, che domenica, il risultato, sia, positiva, ah, visto che sono tornato indietro, possiamo vedere, che la Roma ha vinto, 2 a 0, e stasera, poi, il Napoli, il Napoli, che sta già giocando, con il Granada, al momento, sta 0 a 0, speriamo bene, anche per il Napoli, bisogna sempre tifare le italiane, in queste competizioni, io riesco a tifare tutte le squadre, tranne che la Juve, cioè la Juve, infatti, ho goduto come un maiale, per il risultato di ieri, anche se è un risultato, che comunque va a favore, della Juve, perché la Juve è, il 2 a 1, lo può tranquillamente recuperare, al ritorno, non è un risultato, chissà quanto intimidatorio, è impossibile da ribaltare, e anche perché il Porto, non è una squadra che eccelle, non è una squadra, insomma, che può incutere, chissà che terrore, quindi, penso che la Juve, si qualificherà, ovviamente, io guferò, con tutte le mie forze, però, poi vedremo, e niente ragazzi, non resta che augurarvi, buona serata, e ci vediamo domenica, per il post partita, di Milan Inter, e ci vediamo domenica,